benvenuti io sono all siamo qui su alien isolation nuovo episodio dobbiamo raggiungere la six on communication secondo quello che ci ha detto alex axel che è quel pelataccio che ci ha accompagnato per molto poco del nostro viaggio e niente dobbiamo andare vediamo un po abbiamo salvato salvare importante siamo modalità difficile ricabliamo un po allora usa il ricablaggio per attivare o disattivare i sistemi nell'area intorno a te i sistemi condividono energia limitata disattiva quelli che non ti servono per poter attivare altri studia la mappa a destra della schermata con r bla bla per controllare la posizione dei sistemi locali vabbò intorno ce ne freghiamo ok cambia sala l1 abbiamo abbiamo tante sale non abbiamo una sola non dobbiamo fare un gran che ok allora sistema instabile lo disattiviamo sistema altoparlante attivo basta c'è nient'altro da fare non fare sto rumore maledetto non fare il rumore no non riusciamo ancora a entrare da qua da dove siamo venuti cosa c'è qua qua per nascondersi ma noi non vogliamo nasconderci questo è un ascensore morto ma ci prendiamo del metallo ok quindi navetta vediamo un po zoom 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 ok noi dobbiamo andare alla 6xon quindi alla nostra sinistra non c'è una ceppa e alla nostra destra nemmeno vabbè immagino che ci sarà un unico punto accessibile non so neanche se possiamo correre in questo momento perché da quando ci sarà fisicamente l'alien non sarà possibile correre soprattutto a modalità difficile ma qua potremmo attivare qualcosa si questa ci porta porta ci porta engineering deck va bene solomon habitation tower andiamo a vedere cosa c'è lì intanto arriva il nostro trenino c'è qualcosa di interessante ok per il disagio disastro ok c'è qualcosa qua si apre ok andiamo a vedere qua io me la faccio già addosso qua non si passa qua c'è una porta no whip no load no whip no load certo qui siamo dove? allora qua siamo alla fine del nostro tunnel in realtà non so dove siamo questa non si apre questo si apre andiamo a vedere allora qua c'è un pezzo di metallo e ci piace la luce col triangolo ok siamo qua qua non c'è niente di buono ok devo prendere l'ascensore 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 lassù perfetto sarà dura perchè ha questo livello di difficoltà con la mia incapacità qui mi ammazzano probabilmente ci sono gli umani gli umani sono i nemici più merda no 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 mi ha visto mi ha visto figlio di una androcchia chissà dove cazzo sono loro loro non dovrebbero poter entrare qua non dovrebbero meglio spegnere la luce bisognerebbe capire dove sono perchè non ho ancora sistemi di richiamo di clickbait ok qua non è entrata però mi sa che sono allerta or dunque vediamo un po' sala d'attesa l'ascensore è giusto giusto dritto davanti a noi quindi magari potremmo nasconderci lì o ci vedono sempre aspetta ehm ho lanciato? no l'ho lasciato qui prendi la mira sti cazzi ah è l2 ok sto sbagliando tutto ho lanciato ho lanciato un po' se riusciamo dobbiamo andare la questa è chiusa immagino sì dove sono? dove cazzo sono? cerca prendi tutto costrina prendi tutto vediamo un po' se possiamo fare qualche cosa no? però possiamo fare razzo intanto non lo so non lo so lanciare ascolta mi bene devi andartene ora prendere Claire il gatto e correre a casa dobbiamo trovare un posto sicuro finchè la Sixon non manda una nave ho visto il tipo giù nell'atrio non ricordo come si chiama quello che ha un autore crano ok e lo farò io ho fatto finita di non vedermi no problem sì però intanto andiamo ok trovo una cellula dati per riparare il trasmittore ed è là è di là ok dobbiamo tornare da dove siamo andati o meglio dobbiamo andare su che cazzo siete? proviamola e facciamola fuori grazie tipo lì andate andate no? non c'è niente speriamo di essere tutti qua mi ha visto e mi ammazzo adesso mi hai visto? o no? sì ma mi hai visto? ce l'ho alle spalle ah ah ok non lo dovevo fare in realtà non dovevo uccidere un essere umano direi di corri forest corri e aprimi grazie chissà se ho ucciso un essere umano può darsi di sì mmh eccoli che fate? che fate? ok mi sono fottuto probabilmente l'occasione di prendere il trofeo oro per non uccidere nessuno per non uccidere nessuno bisogna fare cose qua allora trovo una cellula dati dai mo ma c'è qualcuno? no no c'è già l'alieno? cazzo c'è già l'alieno? vabbè eh io devo andare mi dispiace signore vabbè Ci sono cose che fanno rumore Ma c'è il salvataggio Che noi usiamo subitissimo Sì Ok Ok A parte l'abbiamo fatta Qua c'è un revolver Dove sei Dove sei Vedete il revolver Qua Ok Ormai lo possiamo usare Vabbè Ho il revolver Siamo tutti felici per questo Tessera d'accesso Fondamentale Come se servisse qualcosa Revolver Batteria scarica Qui non c'è un cazzo Vabbè Ok Qua è chiuso Sì No Forse Si apre Ottimo Stai basso Stai basso Io non voglio il revolver Come faccio a cambiarlo Ehm Ah Boh Vabbè Cercheremo di non sparare Qui non c'è niente Stai su Stai su Stai su Cara Ripley Nanana Tu cosa sei Tu sei un android E gli androidi Puzzano Un animal Un animal Trudel Prendi tutto 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 Giù Mi posso Innestarmi No Ok Andiamo un po' Stai su Prendi tutto Ah ah Dimmi ti è raggiunto Dovremmo produrre qualcosa Però non so Non riesco a produrre Con L No L1 L1 Qual era? No Questo dai botti Com'era il menu di creazione? No R1 Mi pare Questo No Non lo è Potrebbe essere questo Iniettore Questo si apre Non ti devi aprire in questo modo Mi fai venire uno sturbo E c'è Qualc'è È un morto È un morto Oh meglio Un morto Se mi becca qua Sono morto Anch'io Ok Procediamo Anzi Andiamo a salvare Prima Perché Comincia a diventare Un po' C'era qualcosa qua Bomba fumogena Ok Anche c'è altro Che ho dimenticato No Direi di salvare Perché non so Quando ci sarà Il prossimo salvataggio E questo è qua Vicino Se non ricordo male Qua Sì Ok Perché abbiamo ottenuto Un bel po' di vantaggio La pistola I piani Insomma Un sacco di cose Dì c'è il morto Dobbiamo guardarci Dalle botole Dobbiamo guardarci Dalla bava Soprattutto Anche se non so Se L'alieno È già attivo Credo di no La scatola nera Sì È finito il gioco Yeah Vi è piaciuto? Cosa? Cosa? Fuck Ai 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 Ok Porca puttana Porca puttana Porca puttana Ok Ma Non dovrei avere Il sensore Ma non mi fido Proprio per niente Ma manco per un cazzo Mi infido Ok Torniamo fuori Direi di tornare fuori Arricchivio lavori Se va Sto Porca Secondo Ax Che se te frega La sala Supporto Tecnico È di qua Ok Potrebbe esserci una cellula Qua Non si passa La porta chiusa Porta chiusa Ok Spostiamo l'archivio In qualche modo Flip block Questa macchina Farà il caso Nostro Forse Eccola qua La cellula Dati Ok Ho il sintonizzatore E con il sintonizzatore Alla mano Direi che vi posso dare appuntamento Al prossimo episodio Spero vi sia piaciuto Io mi sto caccando Adosso Già adesso L'ho già giocato Qualche volta L'ho finito Anche E però Non ce la posso fare È troppo pesante E Lasciate un messaggio Un commento Ditemi cosa ne pensate Datemi qualche suggerimento Se volete E Vediamo subito Come si fa Segnale Si trova qua Ah già Devo far così Così E così Bla bla Fatto Ciao a tutti Ciao a tutti